Lo scontro tra motociclisti avvenuto ieri sui tornanti del costo non è stato l'unico incidente della domenica sulle strade del Vicentino, coinvolti mezzi a due ruote, visto che anche a Bolzano Vicentino è stato segnalato un problema, anche in questo caso con esiti gravi, visto che un uomo è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. A venire in contatto in questo caso sono stati un ciclista e un centauro lungo la postumia che collega Vicenza Cittadella all'altezza dei confini con il capoluogo verico dopo l'abitato di ospitaletto. Ad avere l'appeggio un ciclomattore Vicentino di 54 anni che ha necessitato di ricovero immediato. In seguito alle ferite riportate nella caduta sull'asfalto dopo l'urto con il mezzo a due ruote, l'uomo stava pedalando verso la propria dimora di ritorno da un'uscita domenicale quando nel tardo pomeriggio di domenica si è scontrato con una motocicletta sul posto. In pochi minuti i carabinieri con una pattuglia inviata dalla stazione più vicina e l'ambulanza del 118 ripartita a sirene accese direzione San Bortolo con a bordo il ferito il quale avrebbe battuto il capo nello scontro di pochi minuti prima riportando un pericoloso trauma cranico. Dopo l'accoglienza al pronto soccorso il 54 anni è stato affidato alle cure intensive della rianimazione. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi decisiva le prossime ore. Le dinamiche dello scontro per il momento rimangono incerte in attesa dei rilievi.